Scegliono il cambio, serve gente fresca. I minuti sul cronometro sono sempre meno, Piero. Devono stringere i denti in questo finale e portare a casa la vittoria. Questo cambio può sicuramente tornare utile. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Prova a spazzare, ma male qui. Hanno spazio per ripartire. Lancio morbido verso il compagno. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Ha letto bene l'azione sulla traiettoria del passaggio. Azione interrotta. Federico non la tiene. Prova a reagire la Fiorentina allo svantaggio. Trascinata dall'entusiasmo del proprio pubblico. Palla verticale interessante. Azione che sfuma. Decisivo qui il portiere che tiene ancora in vita la sua squadra. E se avessero preso gol qui, probabilmente la partita si sarebbe chiusa. Vediamo cosa inventa ora. Buono l'1-2. Occhio al tiro. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Cinque minuti alla fine. Ancora in vantaggio di un gol. Puntuale qui il difensore nel recupero. Perdono il possesso del pallone. C'è la possibilità della ripartenza. Difesa lenta a rientrare di partenza che può essere pericolosa. Tiro deviato. La deviazione del difensore inganna il proprio portiere. Palla che termina a terrete. In diretta mi era sembrato che fosse stata una deviazione. E in effetti c'è stato il tocco che ha messo fuori causa il portiere. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per due reti a zero. Desga. Cagliacón. Passaggio intercettato. Palla recuperata. Federico. Fatica da tenere il pallone. Ottima lettura difensiva. Veretù. Abraham. Sbaglia e regala il pallone. Ottimo intervento in copertura. Piontek. Pallone che viene riconquistato. Abraham. E il pallone se ne va via. Interviene e recupera. Un minuto di extra time. Federico. Palla recuperata. Azione interrotta. si ripartirà con un fallo laterale. Federico. Federico. Capisce tutta intercetta al passaggio. È finita. Con la gioia della squadra ospite che si porta a casa i tre punti. Niente da dire, Pierre. Hanno meritato questa vittoria. Forse potevano farne addirittura qualcun altro. Resta comunque una buona prova. Fis Eine partner. Electric below cam. Accol. Accol. Quotehe. Quote. Grazie a tutti.